la scorsa adesso prende coraggio nuovo passaggio sbagliato, c'è sempre Flore che adesso supera il centrocampo prova col destro pallone alto sulla traversa di Arcadio Flore pallalunga in avanti, è buona il tentativo col destro, c'è il gol 2 a 1 il 2 a 1 firmato da Moi che era per Egizi va col destro il tiro alto, sopra la traversa nulla di fatto sulla destra per Arduini, cross in mezzo dall'altra parte sempre Moe col destro Flore la grande parata e la palla che rimane lì è spazzata